La reputazione online dei nomi dei Pandora 0 Pascal al secondo. Case Stadi? Un nuovo studio di Reputation UP ha analizzato la reputazione online di quattro personaggi pubblici implicati nello scandalo dei Pandora 0 Pascal al secondo. Attraverso questa analisi, conosciamo il sentiment e la percezione sulle personalità più rilevanti apparse nelle indagini sui Pandora 0 Pascal al secondo. Cos'è Pandora 0 Pascal al secondo? Pandora 0 Pascal al secondo è il nome di uno dei più grandi progetti coordinati dall'International Consortium of Investigative Journalists, ICI Lunga. Si tratta della fuga di documenti strettamente riservati provenienti da 14 studi legali esperti nella creazione di società in diversi paesi del mondo. 600 giornalisti da 117 paesi e due anni per indagare su più di 11 milioni di file che rivelano la creazione di società offshore. Cosa sono le società offshore? Le società offshore sono società o organizzazioni create in un paese diverso da quello in cui risiedono i proprietari, i partner o i beneficiari. Sono fondamentalmente ideate per nascondere ed evitare le responsabilità fiscali, mantenendo l'anonimato ed evitando anche le tasse. Cos'è l'ICI Lunga? International Consortium of Investigative Journalists è un'organizzazione no profit con sede nella capitale degli Stati Uniti, Washington D.C. È un consorzio di diversi giornalisti di tutto il mondo che collaborano nelle indagini per realizzare servizi che riguardano politica, scandali finanziari e corruzione. L'amministratore delegato è Gerard Rile. Dopo l'annuncio e la pubblicazione del report su tutti i loro social network, l'hashtag cancelletto Pandora Papers è entrato nei trend. Come si può vedere dal loro account Twitter. Pandora 0 Pascal al secondo. I nomi Pandora 0 Pascal al secondo è senza dubbio stata una grande rivelazione degli ultimi giorni. L'inchiesta svela i nomi dei personaggi delle elite più influenti e ricche del mondo. Tra questi ci sono 336 politici di oltre 90 paesi intestatari di società offshore che mettono a rischio la loro reputazione finanziaria. Dal grafico si può vedere che l'America conta 92 politici coinvolti, seguita dall'Europa con 90 e dall'Asia con 68. Nella lista ci sono anche 130 miliardari di Forbes, celebrità, membri della famiglia reale, trafficanti di droga e truffatori. Reputation UP ha stilato un elenco con quattro dei nomi presenti nei Pandora 0 Pascal al secondo che appartengono alla sfera politica, sportiva e del mondo dello spettacolo. 1. Carlo Ancelotti l'allenatore italiano del Real Madrid è stato più volte indagato dalla finanza spagnola. Con l'accusa di evasione di circa un milione di euro. Pandora 0 Pascal al secondo rivela l'uso di una società legata ai paradisi fiscali. Il coinvolgimento di Ancelotti ha aggravato la crisi di reputazione del Real Madrid. Già aggravata dalle ultime notizie di Florentino Perez. 2. Dominique Strauss, canne il famoso ex ministro dell'economia francese ed ex direttore del Fondo Monetario Internazionale, FMI, si trova nella lista per via di una società costituita a Dubai con sede in Marocco. Dopo aver offerto servizi di consulenza a società in Africa, ha gestito collegamenti con società offshore per riceverne i compensi. Ma questo non è stato l'unico scandalo dell'economista francese. Accusato di abusi sessuali nei confronti di un'addetta alle pulizie d'albergo. 3. Tony Blair I documenti affermano che l'ex primo ministro britannico ha acquisito una proprietà risparmiando una notevole somma di denaro. Inoltre, lo accusano di aver acquisito una società offshore. 4. Shakira Shakira L'artista colombiana è stata recentemente al centro di un'indagine giudiziaria presso il Tribunale di Barcellona per una frode da oltre 14 milioni di euro. Secondo l'indagine dell'organizzazione giornalistica ICI Lunga, Shakira ha società registrate nelle isole vergini britanniche. Uno dei paesi conosciuti come Paradisi Fiscali. I personaggi di Pandora Zero Pascal al secondo. L'analisi Il Centro Studi di Reputation UPI ha analizzato le reputazioni digitali di quattro personalità della lunga lista pubblicata da Pandora Zero Pascal al secondo. Per questo ha monitorato, con il software RepUPI Monitoring Tool, le reazioni degli utenti, un giorno dopo la pubblicazione di Pandora Zero Pascal al secondo. I parametri esaminati sono i seguenti. Risultati Sentiment Temi positivi e negativi Il sentiment attraverso il monitoraggio online, si calcola la percentuale di sentiment, positivo o negativo, generato dagli utenti sui social network. Il sentiment positivo di Carlo Ancelotti è del 5,2%. Mentre il negativo è del 48%. I dati indicano che per invertire questo trend negativo ci vorrebbe una strategia incentrata sul miglioramento della reputazione online. Dominique Strauss-Kahn, invece, ha un sentiment positivo quasi nullo. Mentre quello negativo è dell'8,9%. Tony Blair ha un sentiment negativo del 29,2%. Mentre il sentiment positivo è molto basso e rende ancora più evidente il negativo. Shakira ha un sentiment positivo del 5,8% mentre quello negativo è del 20,4%. Una percentuale ovviamente alta se messa a confronto. Come nel caso di studio su Ivan Duque, per i quattro coinvolti nei Pandora 0 Pascal al secondo, prevale nettamente la percentuale di sentiment negativo. Conclusioni Il Centro Studi di Reputation UP, azienda leader nella gestione della reputazione online, ha analizzato l'immagine digitale di quattro personaggi influenti indagati dai Pandora 0 Pascal al secondo. Da questa analisi, si possono trarre le seguenti conclusioni. I personaggi analizzati hanno un evidente sentiment negativo. Il sentiment negativo di Carlo Ancelotti è il più alto. Con il 48%, nessun personaggio ha un alta percentuale di sentiment positivo. Tony Blair ha un sentiment negativo del 29,2%. Il che lo rende il secondo con il punteggio più alto.